Quando è stato fermato in via Besta a Sondrio da una volante della polizia per un controllo ordinario, di motivi per forzare il posto di blocco, deve aver realizzato di averne più di uno. Era infatti al volante di un'auto priva di assicurazione e revisione e sottoposta a fermo amministrativo. È stato probabilmente per questo che l'uomo, durante gli accertamenti, ha improvvisamente innessato la marcia investendo e ferendo uno degli agenti di polizia per poi fuggire ad alta velocità in direzione di Ponchiera. Erano passate da poco le 17 di venerdì scorso e immediato è scattato l'allarme a tutte le sale operative delle forze di polizia del territorio che subito hanno iniziato le ricerche. ON, queste le sue iniziali, 59 anni, con precedenti per guida in stato di ebrezza alcolica, falsità in scrittura privata e lesioni personali, è stato ritracciato poco dopo la segnalazione da una pattuglia della squadra mobile di Sondrio in un casolare di proprietà della famiglia, sito in Cassione Andevenno. Nascosta all'interno di una stalla situata nella parte posteriore dell'edificio è stata ritrovata anche l'auto con cui l'uomo poco prima aveva forzato il posto di blocco e ferito il poliziotto. Poliziotto che ha riportato lesioni e traumi multipli con prognosi di 30 giorni, che con tutta probabilità diventeranno di più perché dovrà essere sottoposto a un delicato intervento a una mano. A seguito della perquisizione personale di ON gli sono stati ritrovati e sequestrati un coltello e una roncola. Al termine delle formalità di rito la squadra mobile e l'ufficio prevenzione generale soccorso pubblico della questura di Sondrio hanno tratto in arresto l'uomo che poi è stato tradotto presso il carcere di Sondrio. Lunedì il GIP di Sondrio ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.